oggi parlo di un argomento piuttosto inflazionato ma che ho visto che ha fatto sbarellare alcune persone infatti mi sono imbattuto in questo classico esercizio per caso e molte persone che conosco non sapevano dove sbattere la testa e quindi iniziamo dalle basi che cos'è quello che avete visto nel titolo di questo video cioè il triangolo di pascallo triangolo di tartaglia triangolo di kayaman è un triangolo formato da un numero di righe predefinite in cui sono presenti dei numeri riciclando questa bella animazione che ho preso da wikipedia ai bordi abbiamo sempre uno e ognuna di queste cellette viene calcolata sommando le cellette che stanno sopra adiacenti esiste un altro modo per calcolare il numero presente in ogni celletta utilizzando il coefficiente binomiale quindi supponiamo di stare utilizzando una numerazione zero based quindi questo cosa significa che il primo elemento è indicizzato con 0 e la prima riga è anche indicizzata con 0 il valore di ognuna di queste cellette può essere calcolato come n su k utilizzando questa formula dove n è il numero di riga e k il numero dell'elemento che stiamo considerando quindi il numero della celletta ora lo scopo di questo esercizio è quello di non utilizzare una tabella ovvero non possiamo precalcolare i valori e poi sormali insieme come vediamo in questa animazione bisogna calcolarli al volo e per questo motivo possiamo utilizzare la formula del calco del coefficiente binomiale è una frazione dove sopra abbiamo il fattoriale di n sotto nel denominatore abbiamo il fattoriale di k e il fattoriale di n meno k questo ovviamente assume che n sia sempre maggiore o uguale a k per chi non lo sapesse il fattoriale di un numero intero è semplicemente il prodotto che va da 1 fino n se vogliamo calcolare il fattoriale di 4 basta fare 4 per 3 per 2 per 1 ovviamente 1 lo possiamo scartare vabbè quindi il fattoriale di 4 fa 24 da dove salta fuori questa formula del coefficiente binomiale senza andare troppo nel dettaglio viene dalla statistica e ci permette di rispondere a questa domanda quanti insiemi di k elementi posso fare con n elementi mi spiego peggio e lo faccio utilizzando le mie figurine di dragon ball ho tre figurine goku vegeta e sel quindi n uguale a 3 quanti insiemi di due figurine posso formare avendone solamente 3 se applichiamo la formula otteniamo 3 quindi abbiamo goku e vegeta vegeta e sel e infine goku e sel ok quindi dobbiamo fare un programma che iteraticamente invoca una funzione che calcola n su k per ogni elemento e riga del nostro triangolo e che ci vuole in effetti non ci vuole niente ma non funziona o meglio non funziona bene il problema del fattoriale è che cresce molto rapidamente e anche usando unsigned long long int in sì io arrivo a stampare fino a 21 righe alla 22esima scogliona tutto questi valori nell'ultima riga sono minore di quelli della penultima riga e questo perché va tutto in bacca per via dell'overflow degli interi potremmo pensare di utilizzare il double per fare moltiplicazioni intere così da avere più spazio ma non possiamo mai essere sicuri che tutto vada bene fatelo voi come compito per casa il codice lo trovate sempre su github magari su questa cosa ci farò un video dedicato e credo di averla già detta questa cosa e ancora non l'ho fatto sto video dedicato vediamo possiamo migliorare in qualche modo il codice per stampare più righe sì ma lo facciamo dopo la sigla benvenuti e ben ritrovati i pinguini in questo nuovo video di fk code academy io sono valerio e oggi parliamo del triangolo di pascal e in particolare delle sue implicazioni su come implementarlo in sì senza far sforare niente spolliciate questo video sulla fiducia iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e inoltre se volete potrei anche offrirmi un caffè virtuale su coffee il link lo trovate in descrizione e qui continuiamo adesso da dove ci avevamo lasciato e andiamo a vedere come possiamo migliorare questo codice guardiamo nuovamente questa formula essendo che k è sempre minore o uguale a n numeratore conterà tutti i numeri che vanno da 1 fino a k essendo questo il fattoriale di n la sequenza di moltiplicazioni includere anche i numeri che vanno da 1 fino a k quindi possiamo semplificare e ridurre la moltiplicazione nel numeratore da n fino a k più 1 visto che tutti gli altri li abbiamo semplificati che tra l'altro è quello che suggerisce la pagina di wikipedia esattamente qui sopra perfetto funziona no o meglio rimaniamo sempre dove siamo a 22 righe perché dalla 22esima riga in poi salta tutto come electro boom dobbiamo trovare un'altra soluzione abbiamo semplificato la nostra frazione poco fa possiamo semplificarla ancora un po ma certo possiamo fare un ragionamento molto semplice prima di tutto chiamiamo per comodità n meno k con q quindi q e n meno k man mano che moltiplichiamo i fattori nel numeratore partendo da n controlliamo se n è divisibile per q se lo è quello che faccio è di moltiplicare il nostro risultato parziale per n diviso q perché so che mi dà un numero intero senza resto perché lo sto controllando prima e ogni qualvolta che trovo un numero che sia divisibile scalo q di 1 se non trovo niente moltiplico semplicemente per n e poi successivamente io quello che vado a fare è di calcolare il denominatore con i numeri che mi sono rimasti perché io ho scalato q diverse volte quindi se a meno ci resta un 2 lo dobbiamo considerare come denominatore forse sarebbe il caso di fare un esempio e questo esempio lo faccio con n uguale a 5 e k uguale a 2 questo significa quanti insiemi di due elementi posso fare partendo dai cinque elementi vediamo nel numeratore abbiamo 5 per 4 per 3 q che sarebbe n meno k è 3 quindi qua nel denominatore mettiamo 3 5 è divisibile per 3 no andiamo avanti 4 è divisibile per 3 no andiamo avanti 3 è divisibile per 3 sì quindi li semplifico e aggiungo qua 2 in totale mi resta 5 per 4 nel numeratore e 2 nel denominatore che è semplificato fa 10 ovviamente potevamo ancora semplificare tipo il 4 col 2 ma questo è una sorta di algoritmo gridi e quindi non fa sempre la cosa migliore ma questo lo vediamo dopo questa soluzione sembra funzionare bene fino a 35 righe una volta aggiunta la riga 36 iniziamo ad avere i primi problemi per esempio questo numero dovrebbe essere quest'altro ma niente non ci siamo ancora però comunque abbiamo spostato l'asticella e siamo riusciti a generare più righe possiamo fare di meglio semplicemente anziché fermarci solamente al primo valore del denominatore che troviamo che sia divisibile per il valore del numeratore quello che faccio è per ogni numero del numeratore vado a vedere se esiste un numero nel denominatore che sia divisibile cioè non mi fermo solamente a q ma vado a guardare q q meno 1 q meno 2 di volta in volta e man mano che li trovo li tolgo in pratica se prendo l'esempio di poco fa quando considero il 4 il 5 non lo consideriamo perché un numero primo io controllo sia il 3 che il 2 nel denominatore per controllare tutti i valori che stanno giù che potrebbero essere divisibili con qualsiasi altro numero nel numeratore faccio anche questo per il 3 che lo trovo quindi lo semplifico e alla fine facendo tutti i conti ottengo di nuovo 10 avendo però eliminato altre operazioni ridondanti tuttavia questo genere di approccio funziona bene fino a 39 righe quindi ne abbiamo guadagnato un paio perché sembra che alla quarantesima riga iniziamo ad avere i primi problemi si vedono già dei primi numeri come vedete qua schermo possiamo fare di meglio a questo punto dobbiamo truffare dobbiamo truffare un pochino visto che almeno sul mio computer con una cpu a 64 bit gli interi sono fino a 64 bit quindi 8 byte se per esempio mettiamo assieme due interi possiamo simulare di avere un intero a 128 bit ma il processore non le supporta quindi non può fare operazioni con interi che stiamo creando noi quindi dobbiamo riemplementarci tutte le operazioni fondamentali quindi la somma la moltiplicazione che sono quelle che servono in questo video sia anche la divisione tuttavia non dobbiamo fare ciò perché gcc e anche altri compilatori fanno questo per noi e ci mettono a disposizione un tipo che si chiama underscore underscore int 128 che io per brevità chiamerò semplicemente int 128 questo tipo in particolare lo si trova su gcc non sono certo che per esempio su silang si chiama allo stesso modo ma non importa se vediamo l'assembly generato nella somma di due int 128 vedremo che comunque utilizza registri a 64 bit e fa qualche operazione in più quando li dobbiamo sommare insieme quindi utilizzando int 128 noi riusciamo a stampare a schermo fino a 67 righe del nostro triangolo di pascal ovviamente sto utilizzando unsign int 128 siamo riusciti ad aggiungere 30 righe che non è male possiamo fare di meglio fatemelo sapere voi nei commenti perché oggi io sono riuscito a fare quello che serviva ovvero trovare una soluzione a un problema che ha in qualche modo non solo a che fare con i tecnicismi del linguaggio sì ma possiamo fare anche dirigeramente su carta semplificando le operazioni e rimuovendo le operazioni che non servono come vi dicevo poco fa il link di questo codice lo trovate su github e quindi grazie per stati qui con me anche oggi e noi ci vediamo alla prossima ciao chilo